Buongiorno a tutti e buon venerdì 21 maggio. Che il Signore sia la vostra guida per indirizzare tutti i passi che muoverete in questo giorno e tutte le cose belle che vorrete fare. Benedico i vostri cuori, benedico le vostre labbra perché possano parlare parole d'amore, parole di bellezza, di misericordia, di giustizia, di bontà. Benedico le vostre mani perché queste possano fare solo ed esclusivamente il bene. Benedico le vostre vite perché siete un capolavoro del Signore e possiate restarlo sempre. Vi abbraccio con tutto l'affetto paterno di questo mondo. Vorrei che ciascuno di noi oggi pensasse un po' di più a Gesù crocifisso che ha dato la vita per noi, che è morto per noi. Pensiamo a Gesù in croce e se abbiamo commesso qualche errore, qualche peccato, domandiamo perdono a Gesù perché dovete sapere che i nostri peccati, piccoli o grandi che siano, feriscono il cuore amabilissimo di Gesù. Invochiamo Santa Rita, invochiamo San Giuseppe, invochiamo la nostra Mamma Celeste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nell'augurarvi una buona giornata, vi ricordo che alle 14.50 avremo la coroncina e attenzione, oggi il rosario sarà alle 21.00. Pregheremo insieme, tutti comunitariamente, sempre sul canale YouTube, potete seguire. Invitate tanti amici, tanti fratelli. E io vi abbraccio e vi bacio.